Ed eccoci qua gentili telespettatori, il freddo comincia a farsi sentire sul serio in queste ultime ore, le temperature si sono abbassate soprattutto qui sulla Murgia e quindi l'inverno sembra essere arrivato sul serio, veramente nelle ultime ore stiamo vedendo temperature e anche qualche fiocco di neve abbiamo visto questa mattina quando ci siamo più o meno svegliati. Insomma quando siamo usciti di casa, allora oggi proprio per parlare di temperature, di condizioni meteo abbiamo il nostro amico che prevede le condizioni in maniera, fa delle previsioni in maniera abbastanza precisa, lo conoscete ormai tutti, si chiama Giuseppe Squicciarino, ben ritrovato, come stai? Come sta? Tutto bene, tutto bene. A casa la moglie vede la trasmissione compiaciuta di questa cosa, che dice dopo aver fatto le previsioni cosa che commenti fa? È contenta, è contenta. Dice anche questa volta è azzeccato. Ma quello lo sa. Lo sa, ma da quanti anni? Ma sono 40-50 anni. Ah, quindi è una storia vecchia questa delle previsioni, non è recente. Ma questa è una storia della buona che resta a creare del mondo. Lei diciamo non ha inventato nulla. L'ha approfondita. L'ha approfondita e quindi poi ha portato avanti queste sue teorie. Ricordiamo agli amici telespettatori di che cosa stiamo parlando, altrimenti non si capisce nulla se uno ci vede per la prima volta. Allora, il signore che è qui a fianco a me è un agricoltore. Agricoltore. Nella vita ha sempre fatto l'agricoltore, non ha mai fatto altro, no? Ha fatto il camionista. Ah, il camionista, l'agricoltore. Ha avuto l'autotrino. Tra l'altro è uno di quelli, un agricoltore di quelli tosti, che vanno anche a protestare. Ecco, volevo far vedere in apertura una foto di una sua protesta a Roma, quando gli altamurani, i materani, si sono recati in quel di Roma per protestare contro l'Imu agricola. Ecco, c'è una foto, regia, se riuscite a inquadrarla. Eccolo qua, guardate, anche se potrebbe non sembrare lui, vi possiamo garantire che lui. Eccolo qui, guardate, è lui, Giuseppe Spicciarino, con la scritta No Imu e la zappa addosso. E' strano che l'abbiano fatta entrare con la zappa in spalla. Ho lottato. Non c'era la sicurezza lì? Sì, sì. Che le hanno detto? E' un articolo di lavoro, non mi puoi imbedire. Ah. E' un mezzo di lavoro. Ho capito. Quindi, praticamente, quanti eravate per fare questa? Eh, non lo sai. Eravate parecchi. Cosa si è ottenuto? Nulla. No, 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 l'abbiamo ottenuto. Avete ottenuto che... Non l'abbiamo stato, è stata abolita. E' stata abolita l'Imu agricola, che, eh sì, vi ricordate, la stavano per inserire... Pagamola. Nel 2015, quindi si tratta di tre, quattro anni fa, c'è stata questa manifestazione, insieme al movimento riscatto, che salutiamo perché sono attivisti, sono molto impegnati. Sì, sei carabinieri, se io non posso portare la zappa, nemmeno tu puoi avere l'arma. Eh sì, perché ognuno fa il proprio mestiere. E io, il mestiere è mio per la zappa. E quindi l'hanno fatta passare, dopo questo ragionamento... E' incredibile, incredibile, questo ragionamento... E se l'hanno fatto tutto sotto, e invece, oh, addobbe, e quella aveva pure l'arma puntata così, abbassa l'arma. Addirittura. E se ho fatto militare, e lo so le funzioni come funzionano. Vabbè. Come saprete, Giuseppe Squicciarino è qui con noi, perché da circa un annetto, è ospite qui nei nostri studi, non ogni giorno, di tanto in tanto, viene qui nei nostri studi per farci le sue previsioni del tempo. Previste. Come faccia, ce l'ha spiegato, è incredibile, è vero, non vero, ma la realtà è che molte delle sue previsioni sono azzeccate. Io, tra l'altro, quando lui porta questo diario, questa rubrica, gli ho firmato anche le pagine dove lui faceva le previsioni, quindi c'è un minimo di prova che non sono pagine camuffate, non sono artefatte, insomma, sono pagine che poi rimangono tali. E tra l'altro, oltre alle previsioni del tempo, egli ci ha sempre parlato di previsioni che fa anche, qui però, come dire, alzo le mani perché veramente non ci capisco nulla, ha predetto o riesce a prevedere anche i terremoti. Come faccia? Non me lo chiedete, io non… qui alzo le mani, veramente non… siamo in un'altra sfera della parapsicologia. Come questa e quella. Come quella. Cioè, allora, la sua tecnica, lo vogliamo ricordare, è quella di 12 giorni l'anno, precisamente a dicembre, nel mese di dicembre, guarda ciò che succede al tempo, alla campagna. Al tempo nel mondo. Eh sì, ogni giorno è un mese dell'anno successivo. E quel giorno lo devi valutare entro un mese. Quel giorno poi lo può valutare entro un mese, cioè nel senso che può essere anche un po'… Cosa fa quel giorno? Lo devi valutare nell'arco del mese. Ho capito. Ah, nell'arco del mese dell'anno successivo. Nell'anno successivo. Altrimenti poi non ci capiamo. Quindi praticamente inizia il 14, no? Il 14 di dicembre dell'anno precedente. E fin il Natale. Il 14 prevede il gennaio? Gennaio. Prevede il gennaio dell'anno successivo. Il 15 prevede febbraio dell'anno successivo. E così via. Fino al 24. 25. Fino al 25. 3? Sì. Dal 14 al 25 sono 12. E io non so contare. Dal 14 al 25, 12 giorni, prevede i 12 mesi dell'anno successivo. Ora, io non ci credevo all'inizio, non ci credevo neanche io, però poi anche i telespettatori ormai… Hanno capito. Hanno capito. Ci fermano per strada, a me mi fermano per strada. Ma quando verrà a Squicciarino per vedere se quest'anno nevicherà, non nevicherà? Perché poi il problema vero sono gli agricoltori. Si giocano tutto con queste previsioni. E anche loro hanno delle difficoltà. Non sanno come andrà il raccolto per esempio dell'anno successivo. Non sanno se devono seminare, quanto devono seminare, se corrono dei rischi, come andrà la stagione. Quindi ascoltano queste trasmissioni che noi facciamo con Giuseppe Squicciarino per cercare di capire quello che accadrà. Perché, a detta loro, non io, questo non lo dico, lo dicono loro, fino ad ora ha sempre azzeccato. E quindi vogliono capire come andranno le cose. Allora, ritorniamo a noi. Quindi, innanzitutto la gente mi chiede, e ci hanno fatto sapere, ma nevicherà? Ci saranno nevicate quest'anno? Ci saranno nevicate intense? I raccolti sono a rischio? Allora, cerchiamo di capire. Non arrivo, ma vedete a febbraio. Perché a San Martino, e questa è un'altra storia, a San Martino, Giuseppe Squicciarino fa anche altre previsioni più ravvicinate, diciamo. Le stesse previsioni però cerca di perfezionarle. Allora, e lui cosa fa? Scrive quello che è accaduto quel giorno, per farci capire che cosa potrebbe accadere in futuro. Allora, dice, la mattina fino al tardi c'è stata la nebbia di Scirocco, ecco, se volete inquadrare la nebbia di Scirocco. Eccolo qua. Allora, la nebbia di Scirocco, ma al tardi sono comparsi dei nuvoloni, segno di pioggia. No, così vi rendete conto che io sto leggendo da questa agenda, da questa rubrichetta che Giuseppe ha sempre con sé. Allora, sono comparsi dei nuvoloni, segno di pioggia, a volte anche violenti. Come l'ha fatta? Ah, ecco, quindi ci potranno essere delle piogge violente. Abbondante, distruttive. Addirittura, quindi dobbiamo preoccuparci. E come l'ha fatto? Sì, come così come l'ha fatto. Sì, in tutta Italia. In tutta Italia. Perché parla... Ha fatto nord e sud. E infatti parla dell'Italia. Se gira il vento colpirà anche il sud con queste giovge. E come è accaduto a Galabria e a Lecce, nel Salento. Vediamo un po'. Poi inizio dell'inverno, il giorno 21 novembre, la Madonna della Grazia. Il giorno, il giorno del 21 novembre, la mattina dalla parte della marina, quindi del mare, è stata caratterizzata dal freddo. È una segna di nuvolone freddo. Io devo fare anche la traduzione, telespettatori. Datemi il tempo anche di tradurla. Non è che non è cosa facile, non perché gli scriva male. Io non riesco a leggere, quello è il problema. Allora, è fatto segno di freddo. Dice, c'è stato il freddo. Che significa neve e pioggia. E ho, e ho, lo aggiungo io. E ho gelate notturne. Con gelate notturne. Con gelate, no, c'è scritto o, per essere sincero. O, e ho, lo aggiungo io. E ho gelate notturne. Neve sui monti più alti. Quindi, per ricapitolare, ora veniamo a lei. Che cosa ci dice? Allora, ci saranno nevicate, per esempio, come due anni fa, abbondanti? E' presto ancora. E' presto ancora. E come possiamo andare? Ma vedi a febbraio, il 14, il 15, il 15 di dicembre. Perché potrebbe, ah. Cosa fa quel giorno? Ah, cioè dobbiamo vedere il 14, quindi tra qualche giorno, se a febbraio ci sarà. Ma già le previsioni ci sono. Che ha neve, deve fare la neve. Quindi quest'anno, secondo lei, allora cerchiamo di essere più chiari. Allora, quest'anno ci saranno nevicate. La bassa quota non si sa ancora. Sì. Tipo da vedere il giorno della Candelora ancora. Però ci potrebbero essere nevicate così come è accaduto. Ah, quindi è sicuro. Ma va a fare. La neve ci sarà. Ci sarà. Non ci sarà bassa quota, ma d'altra quota la neve va a fare. Sì, quindi dalle parti di potenza, insomma, è sempre innevata, tra l'altro. La neve, perché dove ho scritto c'è. Quindi sui monti la neve ci sarà. Ci sarà. Se non c'è già, ci sarà. Ah, va bene. Arriverà. E non sappiamo però dalle nostre parti. Però possiamo già dire che dovrebbe farla. È un po' prestino per vedere. Ma come fate già stamattina? Come all the wind? Già, è previsto di fare la neve. Quindi il consiglio per gli agricoltori, ora per cercare di agricoltori come lei, che rischiano e stanno seminando questi giorni. E già si è finito. Cosa si può fare? Non si può fare no. Non si può fare niente. Cosa c'è da suggerire? No, non puoi fare niente. Cioè? Cioè? Cioè se va male il raccolto che si può fare? Non bisogna fare niente. Questo per quanto riguarda il grano, no? Il grano, l'oliva, tutte cose. Quindi anche la frutta in genere? Puh, non puoi mettere l'ombrello. E l'aria, siamo sotto l'aria. Quindi quest'anno secondo me il raccolto sarà come l'anno scorso, quindi non abbondante, non eccezionale. Fino adesso per la campagna stiamo bene. I terreni non sono allagati, stiamo bene. Non sappiamo che non è vanno ancora. Ti sono detto, non è passato il seduto di città. Perché l'anno scorso, lo dobbiamo ricordare, è stato tremendo. Non si è fatto io. Delle avversità che hanno portato a un raccolto. Ma io te lo disse che va per la gelata. E che se non lo capiscono? Tra l'altro il signor Squicciarino ci ha detto anche che ci sarebbe stata la cosiddetta mosca alle olive. E c'è stata. Che quell'insetto, diciamo, quando l'oliva viene colpita. Per non avere l'attacca della mosca all'oliva giugno e luglio, non è una vecchia propria. Non ci deve essere umidità. Va bene per l'uva e va bene per l'oliva. Perché l'umidità a giugno e a luglio porta... Porta la mosca, porta tutte le cose. Porta i batteri, gli insetti. Invece la siccita mantiene bene. Quindi giugno e luglio, dobbiamo guardare sempre a giugno e luglio e capire. Perché se dice se piove san vita la mente mi è fallita. Che tu fai il trattamento, fai tante cose. Malaria non è buona. Ho capito. Quindi il rischio è che quest'anno sia come l'anno scorso. C'è da vedere ancora, c'è da vedere. Per dirti queste cose. Dobbiamo aspettare. Il 27 dicembre. Dopo Natale. Dobbiamo guardare prima i giorni. Allora, che cosa fa per i giorni quest'anno? Allora, dobbiamo ricordare anche che queste previsioni vengono fatte, soprattutto in campagna. All'aperta, all'aperta. Non si possono fare nelle città. No, non vittima, non vittima, non vittima. Quindi bisogna andare in campagna, ma di solito si guarda questi dettagli la mattina presto. Tutto l'arco dei 24. Di 24 ore, altrimenti si imballa l'aria. Perché quel giorno ti porta 30 giorni. All'altro momento ti gira e questo è l'anno che permette che va a fermare il tempo. Non vuoi stare quadrato così. Devi girare. Come questo che sai, devi girare intorno. Ecco, ora lo stiamo perdendo. Allora, se non lo fermiamo, lo perdiamo. Allora, sì, quindi praticamente lei si mette e guarda il cielo. È quello che succede. Deve osservare. Anche alla natura, diciamo. Anche all'erba. Ma deve capire. Le gelate. Da capisci le nuove, la capisci le cose. E se quel giorno, per esempio, c'è una gelata? È male. Quale può essere la conclusione? Se la fai il 25 gennaio, il giorno di San Paolo, è importantissimo. Sì. Nell'arco della primavera. La vascia l'ora, la va a fare. Quindi è importante osservare quei giorni per azzeccare la previsione del mese, dell'anno. Del mese, della primavera. Porta la primavera. E se, per esempio, quel giorno c'è un sole splendido, le temperature si alzano, significa che quel mese... Ma c'è buono l'annata. Deve andare buono l'annata. Ma va a fare pure il segno dell'acqua. Ma ci ne ha messo il segno dell'acqua. Ah, io sì, ci dobbiamo. Cioè che significa il segno dell'acqua? Ah, cioè che deve... Anche le nuove che per me è tre acqua. Ho capito. Quindi questa cosa lei l'ha imparata da suo padre, dai genitori. Ma dice mio padre e poi l'ho approfondito. Ok. Ma ci sono altri colleghi suoi che fanno questa cosa. Ma ci sto... Non ci sono. Quindi lui non teme concorrenza, lo diciamo ai nostri... Quanto non vede uno store che... Materani, Matera capitale della cultura. E voglia dire capitale della cultura. Noi abbiamo qua un personaggio di alto profilo, che riesce a fare le previsioni. Voi a Matera non ce l'avete. Con tutti i soldi che sono piovuti per la capitale della cultura, che non sapete più cosa fare di questi soldi. Con tutto ciò che avete, che state organizzando. Con il capodanno Rai, voi non avete questo personaggio a Matera. Lo vogliamo dire così, proprio a larghe lettere. Perché lo so che ce lo state invidiando da tempo. Per voi è un problema serio, perché non avere lui a Matera è una grave mancanza. Ma a proposito di non avere, avere, non avere. Lei ha tentato più volte di parlare anche con... Alla rete nazionale. Anche con emittenti alla Rai, per esempio. Non mi hanno fatto andare. Come mai? Non è che lei si presenta... No, ma il problema è che non è che lei si presenta, diceva lei chi è? Io devo dire queste cose. Sì. No, no, no. E quindi non l'hanno mai fatta. Ma dove? A Bari, a Roma. A Roma. A Via Le Mazzini. A Via Le Mazzini. È riuscita ad entrare a Via Le Mazzini. Andava a Porta. Ma con la zappa sempre addosso. Senza la zappa. E che ha detto? Dice, io sono Giuseppe Squiccerino. Io sono l'unico che so fare le previsioni del tempo. E deve accadere che deve fare il minente terremoto. Ora, ammettiamo che l'avessero fatto entrare. Cosa avrebbe fatto? Ah, ma chi è un giornalista come lei che mi doveva intervistare? No, io non sono un giornalista. Sì, diciamo, doveva un conduttore, un presentatore. Che io dovevo spiegare come è venuta da voi. Sì, ma l'nesso qual è? Cioè, fare le previsioni per tutta l'Italia? Ma fosse pure per tutto il mondo. Mose, quando andò sul mondo, sono io. Lo fece per tutto il mondo. Eh, va bene, non ci allarghiamo, ma. No, funziona. Quindi, praticamente, lei andava lì per dire in Rai al popolo italiano. Cosa deve accadere? Oh, e ritorniamo ai terremoti. E accadeva. Ritorniamo ai terremoti che sono forse l'aspetto. Quest'anno la terra tremava sempre. Allora sono andato all'archivio. Sezione, qui lo dico e qui lo nego. Parliamo di un argomento, però. Sono andato all'archivio. Dice, ma come mai? A me non mi risulti che doveva fare il terremoto. Fammi vedere queste previsioni. E mi hanno dato questo foglio qua. Di terremoti che si sono già verificati. Sì. Cioè, parliamo di terremoti. E lei l'aveva già previsti. E qua, dall'anno scorso. L'anno precedente l'aveva già previsti. Eh sì. Come sta scritto qua? Sono i dati che mi ha dato. Cerchiamo di capirci. Allora, negli stessi giorni di dicembre. Che si fanno le previsioni del terremoto. Se quel giorno c'è stato. Se segnava il sismo che tremola leggermente la terra. Se a livello nazionale. Sì, a livello mondiale. Questo mi ha fatto vedere che zone italiane. Invece ce ne stavano tante nelle altre nazioni. No, no, per spiegare meglio ai nostri telespettatori. Perché la vicenda è un po', diciamo, bisogna capirla. Allora, lo spieghiamo. Io non l'avevo capito. Ora sto cercando di rendervi. Tu entro questo mese. Entro questo mese. Negli stessi giorni, fino al 25, nei quali egli fa le previsioni. E compresi il terremoto. Fa anche le previsioni per il terremoto. Cioè, se in quei giorni, se in quei 12 giorni c'è un terremoto. C'è un segnale che trema la terra. In qualsiasi parte. Se deve tornare a tremare. Ma in qualsiasi parte dell'Italia o anche a livello mondiale. Ci sono quelli in Italia e ci sono quelli all'estero. E dico, ma vengono considerati pure. No, ma vengono considerati pure. Oh, se si verifica un terremoto, per esempio, diciamo il 20. Specialmente a quel punto che ha tremato, ha dato segno alla scorsa. È sicuro che lo farà allo stesso punto. Ah, quindi se c'è stato un terremoto, per esempio, in Abruzzo, il 21. Il giorno 21. Quindi il 21 corrisponde. Di Natale, del mese di dicembre. La va a ritornare a fare. In quel mese che corrisponde al mese, al giorno 21. Quindi praticamente se il 25 dicembre, se il 24. Ma quelle non sanno che il 21 porta il mese diciamo a dove. Sì, lo stiamo dicendo noi ora. Quindi il 25 dicembre, 24 novembre, 23 ottobre, 22 settembre, 21 agosto. Quindi ad agosto si deve verificare una scossa. L'ha fatto già, queste cose già è passate. Noi dovremmo passare ancora dicembre. Ah, che potrebbe essere. A dicembre, se va a sentarredire il terremoto. In Sicilia. Alla zona Sicilia. Ma parliamo ancora di dicembre. Perché siamo arrivati a dicembre. Ormai il mese sta. Cosa accadrà in questo mese? Per quello che è stato predetto. Faranno delle belle giornate. Ci saranno anche delle belle giornate e la pioggia. Ha fatto segno di pioggia. Nell'arco del mese, di questo mese, farà le pioggia. Poi leggermente può fare anche di più. Come ha fatto stamattina in due gocce di sede. Ho capito. Però neve questo mese non ci sarà. Non è per me. Non ci sarà. Ha fatto il segno già che egli esista. Ho capito. Quindi dobbiamo aspettarci semmai la neve dopo dicembre. Per l'anno nuovo. Va bene. Va bene. Allora. Penso che abbiamo detto quasi tutto. Chi voleva essere informato avrà avuto qualche soddisfazione oggi. Tranne i terremoti che poi ce lo spiegano. Facciamo fare dei disegnini, una spiegazione più precisa per comprendere meglio questa storia dei terremoti. Va bene. Anche perché diventerà questo argomento importante se lei riesce a prevedere i terremoti. E qua significa che tutto il sistema che hanno messo su, il sistema nazionale delle previsioni dei terremoti non funziona. No, funziona. L'hanno scoperto quando fai il terremoto. Ma non so qual giorno che deve fare il terremoto. Ah, vabbè. Allora, grazie a tutti i gentili telespettatori. Possiamo chiudere la trasmissione di oggi. Chiudiamola. Grazie a Giuseppe Squicciarino per essere stato qui con noi. E buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Ritornerà dopo Natale, insomma, i primi giorni dell'anno probabilmente. Ritornerà per dirci le previsioni per l'anno prossimo, le sue previsioni meteo dell'anno prossimo. Mi raccomando, continuate a seguirci domani, appuntamento con Felice Griesi. Grazie a tutti. Saluti anche da Giuseppe Squicciarino. A risentirci a domani.